Il parmigiano reggiano è prodotto esclusivamente nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e parte delle province di Mantova e Bologna, tra pianure, colline e montagne racchiuse tra il Po e il Rene. È in questo territorio che si concentrano i 4.000 allevamenti in cui le bovine vengono alimentate con foraggi prodotti in quest'area. È da questo profondo legame con un ambiente rispettato e tutelato che cominciano a formarsi le qualità uniche che caratterizzano il re dei formaggi. L'alimentazione degli animali è curata nel rispetto di un rigido regolamento che impedisce l'uso di foraggi insilati e alimenti fermentati. I costanti controlli sul latte avviato alla trasformazione hanno un obiettivo preciso, mantenerne alta la qualità e quelle particolari caratteristiche che consentono al parmigiano reggiano di confermarsi, come è sempre stato, un prodotto del tutto naturale, assolutamente privo di additivi o conservanti. Fin dal Medioevo, quando i monaci benedettini avviarono la produzione di queste grandi forme destinate ad una lunga stagionatura, l'uomo ha solo unito le sue mani alla natura, lasciandola intatta e migliorando esclusivamente ciò che dall'uomo dipendeva. Custodi e interpreti dei segreti legati all'assoluta artigianalità della lavorazione del latte sono i maestri casari, che in centinaia di caseifici artigianali compiono quotidianamente gli stessi gesti, ma alla cui personale esperienza e sensibilità si legano indissolubilmente risultati diversamente apprezzabili per gusti e profumi.